Ritrovato in una soffitta polverosa è stato recuperato e restaurato in tempi record l'ingranaggio che regola i due orologi di Palazzo della Ragione a Padova, uno all'esterno della facciata e uno all'interno del salone. L'antico tribunale cittadino affrescato che nel ciclo dello Zodiaco anche esternamente fu protagonista di una rivoluzione nella misurazione del tempo. Nel 1793 l'abate Bartolomeo Toffoli fece affiancare alla meridiana sulla facciata un orologio suddiviso in 12 ore per agevolare la popolazione dal sistema basato sul sole e sulle stelle al nuovo sistema orario francese. È un mutamento culturale, tanto è vero che Toffoli, che è l'artefice di questo meccanismo, realizza all'esterno due orologi, uno solare e uno meccanico collegati a questo, perché il popolo potesse capire che ora era, nel senso che non essendosi più regolata sul ciclo della natura bisognava che l'ora francese, le ore che noi oggi utilizziamo, fossero comprensibili dal popolo. Tanto è vero che l'abate Toaldo, che è un grande studioso che al tempo regolò gli orologi, disse che tutto questo cambiamento creerà grandi problemi al rozzo popolo. Sono passati i secoli e ormai il rozzo popolo si è abituato a leggere le ore francesi. Il meccanismo in ferro battuto venne fatto realizzare da Giovanni Francesco Mazzoleni, con i perni degli alberi e degli ingranaggi che girano in bussole d'ottone. Probabilmente a causa di un malfunzionamento fu asportato nel corso di un restauro ed abbandonato nelle soffitte del palazzo. Oggi per ricollocarlo sarebbe necessario un intervento troppo invasivo e così l'orologio a pendolo segnerà da oggi le ore in bella vista all'interno di Palazzo della Ragione. E non si poteva più anche ricaricarlo per poterlo rendere funzionante. Questo nuovo sistema che potete vedere di ricarica dei pesi provvede proprio a rendere funzionante ancora il meccanismo senza essere intervenuti in modo invasivo sulla parte antica. Anche il British Museum si sta interessando proprio di questo fenomeno del tempo, proprio qui in Veneto. Eh sì, perché voi sapete che Padova, con i dondi dell'orologio, ha la grandissima tradizione. Padova e Chioggia hanno i primi orologi pubblici messi in una pubblica piazza con un sistema regolativo modulato ancora sull'ora italiana. L'associazione degli orologiai legata al British è venuta a Padova sia per studiare l'orologio di piazza dei signori ma anche per scoprire la complessa misurazione del tempo che attraverso gli orologi solari, le meridiane e attraverso gli orologi meccanici viene compiuta all'interno del Palazzo della Ragione che è una grande macchina del tempo. Il restauro è stato reso possibile grazie all'ordine degli avvocati di Padova. Ogni anno in primavera gli avvocati di Padova incontrano appunto la cittadinanza. Le prime edizioni si sono svolte proprio all'interno di questo splendido salone che è stata la prima sede di amministrazione della giustizia che ancora oggi abbiamo come testimonianza storica in città. E in questo progetto siamo stati coinvolti anche per la ristrutturazione di questo splendido macchinario del tempo che è stato scoperto e ristrutturato e che ha voluto appunto essere per noi un segno di presenza concreta nella vita cittadina.